Quello che vorrei raccomandare di più ai cittadini è di migliorare un attimo i rapporti del buon vicinato perché questo è un elemento essenziale in questo momento. Dobbiamo fare in modo che ognuno di noi faccia il poliziotti in casa nel proprio stabile, nel proprio condominio. Far sì che se nel caso si nota qualche cosa, qualche atteggiamento un po' strano di persone mai viste chiamare sempre il 112, come sapete il numero unico europeo, il 112. Per arginare i furti nelle case più a rischio durante le vacanze estive il questore invita alla vigilanza perché spesso le solite precauzioni non bastano, lasciare l'abitazione ben sigillata, con porte e finestre blindate utilizzando se possibile sistemi antifurto soprattutto nelle ville o nelle case isolate. E poi un altro accorgimento. Non pubblicizzare mai nel modo improprio anche sui siti Facebook, quei contatti che solitamente si hanno diciamo tra amici e dire si va a parto a quell'ora, a quel giorno, cioè dare troppe indicazioni perché non si può mai sapere. Da parte delle forze dell'ordine in questo periodo estivo ci sarà un aumento dei controlli? Normalmente noi nel periodo estivo intensifichiamo i servizi di vigilanza nella città di Como ma anche in periferia con autovetture che vanno nella prima cintura e nella seconda cintura intorno a Como. Ma il rischio di furti in estate non è solo limitato ai momenti in cui si parte per le vacanze. In realtà c'è un leggero aumento dei furti in appartamento, specialmente nelle ore notturne delle volte si intruforano in casa anche mentre la gente dorme. Purtroppo questo è un periodo estivo, si lascia aperta la finestra, si lasciano aperte un po' per una questione di caldo e quelli sono momenti un po' più delicati, quindi fare attenzione anche a questo.